Come nelle altre scuole secondarie di secondo grado, al liceo scientifico Torelli si continuano ad osservare le misure anti-Covid. Qui sono state attivate 5 entrate diverse, con orari di ingresso scaglionati. Nei due plessi di Fano e Pergola è stato posizionato un sanificatore per ogni piano per un costo complessivo di 20.000 euro. E poi mascherine gel igienizzando ovunque e sempre a disposizione dei ragazzi. Intanto le chiedo come è stato questo rientro in classe per voi docenti, per lei preside, ma anche per gli studenti che dopo tante settimane di didattica a distanza oggi hanno fatto per il 50% il loro ritorno a scuola. Diciamo che gli studenti sono stati contenti di rientrare perché finalmente si riappropriano della loro dimensione delle relazioni scolastiche, della relazione con i docenti, della loro dimensione di scuola, vera e effettiva. C'era questa mancanza del contatto umano? C'era, c'era, c'era. C'era anche una grossa preoccupazione da parte mia e da parte dei docenti rispetto alle conseguenze che questo prolungamento della didattica a distanza stava dimostrando, diciamo dal punto di vista dell'equilibrio psicofisico dei ragazzi. E' difficile gestire l'altra metà della classe a casa collegata attraverso il pc? No, oramai questa modalità è entrata a sistema, purtroppo, per fortuna non lo so, però diciamo che i ragazzi, i docenti si sono impratichiti rispetto a questa dimensione, quindi il 50% di ciascuna classe è in presenza, il resto è a casa che segue secondo lo stesso orario. Noi abbiamo ridotto la durata dell'unità oraria consentendo la disconnessione gli ultimi dieci minuti per ogni ora. Quindi avete comunque garantito degli accessi contingentati, anche dei percorsi separati, ovviamente tutte le norme che ormai conosciamo a memoria. Tutto ciò che era già stato avviato e sperimentato all'inizio anno, quindi accessi diversificati con orario scaglionato, questo soprattutto per la sede di Fano dove l'utenza supera le 800 persone.